Ciao, sono Pina Picerno. Come sapete, diverse persone a Napoli sono in grande difficoltà a causa di questa emergenza, che non è soltanto un'emergenza sanitaria, ma un'emergenza anche economica. Allora, sosteniamo tutti, aiuta Napoli la raccolta di generi alimentari che è promossa dalla Fondazione Cristiano Tosi. Tante persone hanno bisogno del nostro aiuto, perciò facciamo un brezzo. Ciao!